Vi sarà sicuramente capitato di avere a che fare con l'oidio, specialmente se avete essenze come ad esempio le querce che in un modo o nell'altro, in modo più marcato o meno, si manifesta e comunque vede l'oidio come uno dei principali problemi. Ve ne parlo perché discutendo con un cliente mi diceva non erroro la chioma la sera perché ho paura che si propaghi l'oidio. Allora l'oidio diversamente da tante altre malattie, fungine, non si propaga con l'umidità ma si propaga molto bene anche col clima asciutto. Non solo si attiva a temperature molto basse, quindi 3-4 gradi, temperature da frigorifero per intenderci, fino a temperature alte, ma soprattutto non ha bisogno dell'umidità. Con un basso livello di umidità questo si attiva e anzi è ancora più attivo perché con il clima secco si mobilizza quella polverina che di solito vediamo sulle foglie, anzi va a intaccare poi le foglie che stanno attorno, le piante che stanno attorno e quant'altro. Quindi non serve umidità per far propagare l'oidio e quindi il rorare sulla chioma è ininfluente sulla propagazione dell'oidio, anzi la rallenta. Importante dire che non bisogna aspettare che l'oidio si conclami con le macchie che sembra che ci sia la farina sulla foglia. Attenzione, se avete piante come le querce, roverelle e quant'altro, osservate che si presenta all'inizio come magari una decolorazione della foglia, sembrano delle macchie leggermente più chiare, ecco quello lì è l'insorgenza di oidio. Quindi intervenite tempestivamente, se avete essenze del genere magari intervenite anche preventivamente. Perché? Perché ne avevo già parlato in un altro video, una volta che il fungo si è insediato tra le cellule della foglia, quando noi andiamo a combatterlo, quindi riusciamo ad uccidere il fungo, il patogeno, ahimè anche le cellule circostanti muoiono e quindi si crea un difetto, diciamo, proprio di tipo estetico. Parleremo ancora di questa tipologia di problematiche sul bonsai importantissimo. Quindi una buona prevenzione e sappiate che se bagnate sulla chioma una pianta a coloidio non è vero che aiutate a propagare. Se vi è piaciuto, like e condividi. Bye!